Qualche volta abbiamo anche fortuna, recentemente nelle collezioni non dell'ultimo Rubi Vecchi di Siena, ma nelle collezioni del Monte dei Vaschi di Siena, quelle storiche, è uscita fuori questa copia del ragazzo che sbuccia il frutto. L'attribuzione inventariale è al Tornioli, che è un pittore senese, ma questi sono problemi relativamente secondari, perché quasi tutte le copie che sono state desunte da questo dipinto non mostrano l'immagine intera, bensì resecata all'altezza dei comiti e senza il pascio di luce in alto, mentre questo mostra l'immagine completa e intatta, solo che ovviamente come tutti quelli che hanno cercato di correggere Caravaggio, questa visione claustrofobia, qui siamo già abbastanza all'interno del 600, non gli era gradita, quindi tutto quello che ha saputo fare è aprirgli una finestra dietro la testa. Il che potrebbe anche non essere sbagliato è confermare questo fatto che quella specie di nimbo celeste è il nimbo del cielo attorno alla testa di nostro Signore. La qualità, come potete notare anche da questa immagine, è tipica di chi aveva di fronte l'originale, perché per esempio quel ciuffo di capelli sulla fronte nelle copie diventa regolarmente un ciuffo di capelli, mentre questa è un'ombra del ciuffo che ci sta sopra come nell'originale. Altri elementi che fanno capire che è stato desunto dall'originale che era a Siena sono il trattamento delle labbra, delle ciglia e in genere la risoluzione della camicia e tutto il contesto. Ecco, questa è una conferma che il quadro era a Siena. Andiamo avanti. Ecco, questo quadro qui invece ha l'avventura di essere un dipinto che viene citato per la prima volta nel 1650 dal Manilli e successivamente nelle varie riedizioni della collezione borghese fino al 1808 quando passa in proprietà al barone Pietro Camuccini ed oggi il dipinto è in quel di Cantalupo Sabino nel museo Camuccini. Devo dire che io saranno almeno 40 anni che non l'ho visto più, questa fotografia l'ho fatta io da bambino, mi scuso per la qualità, ma questo è stato possibile ritrovarlo e rintracciarlo. Ora questo dipinto è stato più o meno condiviso da Schleyer, dalla Cinotti e da altri studiosi, ma credo che oggi si sia arricchito di una prova abbastanza determinante. Più o meno noi sappiamo della vicenda di Caravaggio, che a parte che non era un tipo abbastanza tranquillo, ma ebbe uno scazzo abbastanza violento con un notaio, assistente del notaio spada e si chiamava Mariano Pasqualone, originario di Accumoli, un personaggio col quale Caravaggio alla fine fa una pace all'interno delle stanze di Scipione Borghese al Quirinale, Cipione Borghese è il plenipuritenziario di giustizia da cui dipendono tutte le questioni penali di Roma e quindi di fronte alla pace richiesta tra Caravaggio e il Pasqualone, c'è una pace molto eronica perché Caravaggio dice che tengo che il signor Pasqualone con una spada in mano sia pari a tanti atti, non c'è una spada né nessuno. Comunque bene o male fanno questa pace, ora Mariano Pasqualone è sempre rimasto noto per essere quello che ha preso un colpo di spada dal Caravaggio, il fatto che Caravaggio abbia usato la spada faceva capire che certamente non era un personaggio di secondo piano, gli steccati sociali dell'epoca erano abbastanza pesanti e pressanti, tanto è vero l'oggetto della contesa è che Mariano Pasqualone Notaglio si era innamorato di Lena che è donna di Caravaggio, così risulta dei documenti e pare avesse preferito alla madre della povera Lena, voi avete concesso in modella a vostra figlia uno scomunicato maledetto come il Caravaggio e non l'avete concesso a me che sono un notaio. Caravaggio non l'ha preso proprio per il verso giusto e trattandosi di un suo pari ha usato la spada, non ha fatto grande danno perché gli ha solo stracciato il ferraiolo e l'ha colpito di piatto, era solo un semplice avvertimento. Tanto sta che comunque si capisce anche perché sporgendo la querela e mostrando i fatti ci sia stato un atteggiamento da parte della giustizia abbastanza rigoroso. Ora Monsignor Corradini che è il genio dell'archivistica che tutti sappiamo, di cui io sono semplicemente il braccio, come diceva la vecchia canzone ci venne una grossa idea, andiamo a cercare dall'archivio di Stato chi sono questi Pasqualoni da Accumoli oggi in provincia di Rieti. Ebbene ha trovato quattro cartelle, questi personaggi erano dei personaggi molto importanti, quasi tutti giure consulti, avvocati concistoriali e soprattutto un faldone di questi riporta le vicende dal 1648 al 49. Cercando cercando si è scoperto che la famiglia Pasqualone è la dedicataria della seconda cappella a sinistra in San Lorenzo in Lucina dove ci sono i busti e ci sono i dipinti di Carlo Saraceni, la processione di San Carlo col Santo Chiodo. Quindi nei documenti si è trovato il nome dell'architetto che è un ottimo architetto di secondo piano ma un ottimo architetto. Quindi la famiglia Pasqualone assume una sua fisionomia ben altrimenti importante rispetto a quella che si è. In precedenza avevamo finalmente anche scoperto dove abitava l'Ena che sta in piedi a Piazza Navona, su sto in piedi si era costruito di tutto, aveva il banchetto al mercato di Porta Portese, faceva la puttana e quindi camminava a piedi e che più ne aveva più ne aveva. Siccome molti dei miei colleghi non sono noromani e non hanno capito l'esatta della terminologia che per quanto non è un notaio di cancelliere significa in piedi a Piazza Navona, sta in fondo a Piazza Navona, da piedi e quindi da piedi a Piazza Navona però non la si era mai trovata. Se non che per un caso fortuito io garuffando tra le carte dei panfili ho trovato una serie di acquisizioni da parte dei panfili delle varie proprietà su Piazza Navona fino a che intendevano formare l'insula Panfilia e lì quello che poi è stato abbastanza sconcertante è pensare che in fondo sta strada in piedi a Piazza Navona non l'avremmo mai trovata. Quel semplice fatto che non c'è più, ma c'è stata fatta la galleria di Pietro da Cortona e quindi poi il consiglio Corradini dice pensa gli ha levato la strada e non gli hanno manco fatto ricorso al tara. E quindi adesso non abbiamo l'ingresso della casa della signora Lena che abitando in casa di un avvocato concistoriale è tutt'altro che una prostituta o una curiale, ma abbiamo in cambio la galleria di Pietro da Cortona. Quindi nel faldone del 1648 risulta che questi pascoloni hanno tra le altre cose molti dipinti, di cui uno del Caravaggio. Il Caravaggio è indicato con Cristo alla Colonna e la cifra attribuita gli è assolutamente esorbitante, non mi ricordo male 300 scudi, con 300 scudi ci si comperava mezzo paese. E questo è l'unico soggetto a livello anche documentario di Cristo alla Colonna che Caravaggio dipinge nel periodo romano, cioè fino al 1606. Quindi è probabile che il quadro sia questo, anche perché nel codicillo testamentario veniva precisato che siccome il valore era così alto, gli altri due eredi eventualmente avrebbero dovuto liquidare i due terzi della somma. La data del 1948 e quella del 1950 in cui questo dipinto appare citato nella collezione di Cipione Borghese, anche se non esiste la ricevuta, fa ben capire che la prima cosa che hanno fatto invece di stornare fondi e soldi liquidi lo hanno venduto a Cipione Borghese che cercava quasi il Caravaggio e quindi è andato a finire nelle collezioni di Borghese e poi con tutto quello che sappiamo. Ecco queste sono due novità in corso d'opera. In corso d'opera Caravaggio il 28 maggio del 1606 in quel di via di Pallacorda dove oggi c'è un garage in un duello che probabilmente doveva essere al primo sangue, si trasforma in un duello veramente all'ultimo sangue, tant'è vero che poi ci scappa il morto, con Ranuccio Tomassoni da Terni. Anche qui ricordiamoci che Caravaggio è un aristocratico, ha quattro guardi di nobiltà sia per parte di madre che per parte di padre. Soprattutto i Tomassoni sono una potente famiglia ternana, sono famiglie dei Farnese e hanno una cappella anche loro in quel del Duomo di Terni. Il comandante padre Luca Antonio Tomassoni era stato comandante delle milizie di Castel Sant'Angelo, quindi è una famiglia, come si suol dire, di rispetto. Sono una famiglia di facinorosi, di agitati e di presuntuosi, tra cui un fratello Gianfrancesco è Giure Consulto, Troque Iure, l'altro è Caporione e in questo duello Ranuccio, che poi pare fosse il più scavezza collo, si trova a combattere effettivamente per un motivo che non è stato chiarito. Non è stato chiarito nella misura in cui, se si tende a credere che il Tomassoni avesse vinto nella disputa alla racchetta una cifra al Caravaggio, non si vede il motivo per cui su questa disputa si dovesse arrivare alle armi. Quello che invece è più probabile, come risulta da documenti collaterali, è che ci viene fatta la spia da chi erano i quattro membri della famiglia del Tomassoni che combattevano, della squadra. Allora abbiamo detto a Giovanni Francesco, Ranuccio e due, che sono i fratelli Giugoli. I fratelli Giugoli sono i cognati, che c'entrano i cognati in una disputa di questo genere? Allora nella squadra di Caravaggio abbiamo Onorio Longhi, Caravaggio, e poi abbiamo tra gli altri un National Men, National Men che in quel momento non era possibile che un personaggio che non si sapesse chi era. Questa soluzione scavando tra i nomi possibili e papabili dei personaggi che in quel momento gravitavano attorno a Caravaggio, alla fine la soluzione è venuta dovendo trovare il protagonista per la fiction tv su Caravaggio. Io dissi il National Men, il regista Longoni mi fa dire che qualcuno in scena ce lo devo mettere. E così siamo arrivati alla conclusione che questo qualcuno in realtà è Fabrizio Sforza Colonna, il figlio della Marchesa di Caravaggio, che era a Roma, perché era arrivato a Roma dopo la grazia avuta dai cavalieri di Malta, che si era fatto quattro anni diciamo di prigione per un omicidio, ma a Roma lui non poteva entrare, era ancora bandito da Roma, se non che chi è che ferma la carrozza del principe Colonna? E quindi solo che trovandosi di fronte a un ennesimo omicidio la cosa si aggravava. E questo ci porta anche a capire perché quello che succede, Caravaggio gravemente ferito, nella zona di La Palla Corda ci sono ospedali a quanti si ne vogliono, c'è Santo Spirito, c'è San Giacomo, ce ne sono tanti, perché andare a finire a Palazzo Colonna? Ma abbiamo un'idea di quanto strada c'è da fare con un ferito da Piazza Firenze a Piazza Colonna? Non è poca. E quindi questo conferma, anche perché poi pensiamo il Caravaggio che arriva lì, busta, toc toc, sono Caravaggio, dice chi è? Puh! Gli sparano, ecco fatto, risolto. E no, invece siccome era appoggiato dal principe Fabrizio Sforza Colonna, evidentemente viene accolto, curato, trasferito a Paliano e il resto lo sappiamo. Il Tomassoni, e qui ritorniamo ai fratelli Giugoli, che c'entrano i fratelli Giugoli? Aveva sposato Lavinia Giugoli, la quale Lavinia Giugoli era una donna chiacchieratissima. Per cui da vari documenti sappiamo di alterchi dei fratelli Giugoli e dei Tomassoni a causa di questa donna, un po' leggerina, un po' a quanto ci dicono i documenti. E la cosa più naturale è che lei fosse l'amante di Caravaggio. Poi soprattutto abbiamo saputo altri elementi di questo racconto grazie al fatto che sia Petronio Stampa, che era il quarto, diciamo, prima della squadra di Caravaggio nel duello, che era Nuccio Tomassoni, lasciano due figli minori e quindi grazie alla presenza dei minori siamo riusciti a trovare, non abbiamo trovato il faldone del processo, abbiamo la sentenza. E questo sempre perché evidentemente il nome di Fabrizio Colonna non poteva comparire e quindi è stato stralciato tutto il resto. Quindi Caravaggio in conseguenza di questo delitto, che poi verrà derubricato da assassinio in omicidio, un sottile spirito perché quando i preti vogliono metterci la buona parola ci riescono sempre, perché? Perché era Nuccio Tomassoni, muore per le ferite 24 ore dopo e si è confessato e comunicato. Quindi da suicidio diventa, da assassinio diventa omicidio. In virtù dell'omicidio noi sappiamo che Caravaggio riceve il bando capitale e che quindi deve assolutamente trascorrere. Normalmente abbiamo trovato altri casi in cui l'omicida viene condannato a un bando che però dovrebbe avere la durata di tre anni e che questo bando doveva svolgersi soprattutto nell'Italia medionale. La conseguenza immediata è che viene rifiutata la morte della Vergine che era stata commissionata dal Cherubini, dall'Erte Cherubini che era un altro notaio originario dell'Umbria perché ovviamente tutti ultramorigerati in famiglia, tutte suori, freddi, sfrati e monache che quindi praticamente non c'erano eredi e questo quadro naturalmente destò immediatamente qualche sconcerto. I motivi per rifiutarlo in teoria non ci sono perché il documento di commissione del Cherubini parla esplicitamente di una morte della Madonna con apostoli eccetera eccetera. E Caravaggio questo ha fatto. Se non che leggendo tra le righe all'interno di questo dipinto ci rendiamo conto che come al solito Caravaggio ha interpretato con quello spirito teatrale e carnale e convinto di dolore cosmico la morte della Vergine. Ed è una vera morte perché se noi vediamo che il corpo è adagiato su dei cavalletti funebri da ubitorio non esiste nessun quadro dove lei non sia adagiata nel proprio letto e soprattutto in primo piano c'è quel catino che contiene quella soluzione di aceto, acqua ed altre cose che serviva a lavare il cadavere. Ora il cadavere di Maria che venga lavato come quello di un qualsiasi personaggio era un po' sovra le righe. Quindi questi sono gli elementi che possono avere causato qualche dissenso. Quindi ci fu uno di questi sacerdoti dell'ordine qui di Santa Maria in Trastevere che disse che non voleva questo quadro. Allora a questo quadro però ricordiamoci che coincide praticamente con l'omicidio in Campo Marzia. no non ho più avanti poi vabbè quando arriverà la vedremo torniamo indietro questo 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 sfratto diciamo e l'omicidio in se stesso comportano però anche un altro rifiuto Caravaggio aveva avuto la commissione più ambita da un artista cioè per la confraternita di Sant'Anna di Palafrenieri aveva dovuto avrebbe dipinto un'opera in cui c'era la Vergine con Sant'Anna appunto padrona dei Carabinieri dei Palafrenieri che doveva essere ubicata nel nuovo San Pietro se qualcuno ricorda San Pietro l'altare era quello dove adesso c'è un mosaico del Guidoreni dell'Arcangelo Michele di Guidoreni quello era l'altare dove doveva essere posta la Madonna del Serpe di Caravaggio se non che Caravaggio viene appunto bandito da Roma i Palafrenieri avvertono lo scandalo il quadro di un omicida non può essere collocato nel massimo tempio della cristianità in quel momento c'è lo sfratto della morte della Vergine e quindi la stessa situazione si verifica per il quadro dei Palafrenieri i quali Palafrenieri ovviamente anche essi non vogliono sottostare a uno scandalo e cedono il quadro a Scipione Borghese il quale in quel momento è neoeletto cardinal nipote come abbiamo detto prima pleni potenziali di giustizia firma lui il bando da Roma di Caravaggio con la conseguenza che non danno a morte e questo però comporta un piccolo dettaglio che sa che potrebbe essere l'ultimo quadro di Caravaggio ora siccome lui aveva commissionato diversi dipinti tra cui il San Gerolamo e altre cose al Caravaggio e non si fa sfuggire l'occasione di accaparrarsi l'ultimo quadro di Caravaggio quindi volenti o non volenti i Palafrenieri di Palazzo debbono cedere il quadro a Scipione Borghese di fatto il quadro oggi è nella Galleria Borghese quindi questi due fatti professionalmente traumatici in una psiche che in quel momento era certamente un po' logora quella dell'artista comportano il totale tracollo psichico il suo totale tracollo psichico quindi nel duello mette anche probabilmente delle forze inconsce e invece di fermarsi al primo sangue appunto come sappiamo si arriva all'omicidio la benevolenza dei Colonna e di Fabrizio soprattutto l'abbiamo saputo viene a portarlo in salvo prima a Palazzo Colonna poi c'è la sua Marchesa la Marchesa di Caravaggio era a Roma perché sostituiva il fratello nell'amministrazione dei beni il fratello a Scagno era stato nominato Nunzia Apostolico in Spagna quindi pensiamo a questa donna in una società maschilista che prende in mano un impero economico e politico come quello dei Colonna e pensiamo bene che tipo di donna sia se si leggono le cronache in cui si parla di lei sappiamo che è una donna di grande carattere poi era bella Elena Sofia Ricci scusi nei feudi Colonna Caravaggio oh poi consideriamo che tra Caravaggio e la Marchesa che si è sposata a 12 anni non c'è tanta differenza d'età chi vuol capire capisce quindi appena rimessosi dalle ferite da quello che era successo a Paliano dipinge con l'intermediazione di Ottavio Costa in quel momento era malato anche lui però è un banchiere di parte spagnola che fa da garante per l'acquisto di questa cena in Emmaus da parte dei Marchesi Patrizzi e questa è una risposta a se stesso cioè non è più la cena in Emmaus trionfante della National Gallery dipinta per i Mattei in un momento ancora in 1602 ancora pieno di ottimismo per i successi di San Luigi dei Francesi di Santa Maria del Popolo e così via è invece un quadro drammatico fino alla morte il Cristo si è svelato rispetto all'altro si è svelato e siamo all'attimo prima della sua sparizione ma siamo anche nell'aspetto di quello che era il Cristo maturo quello del Cristo che è morto qui abbiamo una sua resurrezione ma questa resurrezione non ha aspetti trionfalistici appunto si svolge nel dolore più totale più ottimistica appare questa Maddalena anch'essa dotata di un notevole pedigree di passaggi di proprietà che attestano che questa è completamente certamente autografa una nota leggermente polemica vorrei ricordare che i quadri che sono stati messi in mostra vengono garantiti come docce dominazione di origine controllata sono tutti di Caravaggio è vero ma tre quarti di quei quadri il 99 e il 9% sono frutto degli attribuzionisti perché prima non erano di Caravaggio adesso lo sono e sono stati poi documentati e supportati quindi tutto quello che c'è da dire è il valore dell'occhio del conoscitore e della filologia e poi il supporto della scienza perché quando in una radiografia si vedono pentimenti o le tele sono cucite siamo sicuri che non siamo di fronte a una copia le copie non hanno né cuciture né pentimenti ecco quindi abbiamo questa che è un'immagine sconvolgente del Caravaggio ispirata alla classica Arianna Dormiente o la Niobe che dir si voglia ma in realtà è una scena di un erotismo sfrenato che poi passa a quella che è la Santa Teresa in Estasi di Bernini quindi abbiamo un antefatto assolutamente tragico e completamente questo eros etanatos quest'amore morte quella superficie se qualcuno ricorda la Giuditte Oloferne noterà che ha la camicia da cui traspare il seno e quello indica che quella figura è sudata e quindi questa tensione del sudore rende ancora più parossistica la scena e la stessa cosa avviene per questa Maddalena in questa torrida estasi che appunto è sudata e ha sciolto i capelli con questo gesto di penitenza e nelle mani c'è un vistoso pentimento perché le mani erano state fatte prima in un modo e poi in un altro dipinto e riemerso dalle collezioni appunto dei Caraffa Colonna infatti in Casa Colonna era sempre rimasta a Napoli più o meno passando al canonico Michele Blando del Sagrista Maggiore del Duomo di Napoli ad altri collezionisti ma il dipinto è quello andiamo avanti il passaggio al sud vede Caravaggio impegnato e qui cominciamo ad aumentare le dimensioni in questo dipinto che quasi una silloge medievale un compito difficilissimo come si fa a mettere insieme le sette opere di misericordia in un quadro solo in un'operazione praticamente mai tentata beh Caravaggio ci riesce fa ricorso a tutta la sua abilità scenica fa ricorso a tutta la sua abilità intellettuale e soprattutto gioca tutto sul sul titolo del dipinto che non è le sette opere di misericordia ma i documenti di convittenza la chiamano la Madonna della misericordia quindi Nostra Signora della misericordia se tu hai come cardine Nostra Signore Nostra Signora puoi svolgere la misericordia sulla terra quindi la Madonna diventa quella apparizione stravolgente mai pensata prima non c'è nessun pittore che abbia pensato a un'apparizione vera e propria questi angeli che si fiondano e nelle radiografie fu molto interessante osservare insieme a Raffaello Causa che il bambino Gesù nasce come un angelo e nasceva come un angelo con le sue lucce e poi nel corso d'opera l'ha trasformato nel bambino Gesù quindi questa rappresentazione che poi ha dei tratti assolutamente drammatici perché si passa da quei panni stesi rotolanti che sono i trappi degli angeli uno è bianco e quello che cade sotto è nero quindi si passa dalla luce alla tenebra ma la tenebra è battuta dalla luce c'è dietro quel cero portato da quel chierico si faccia caso che questa candela con quelle che sono sul tare del san luigi dei francesi sono le uniche luci artificiali che caravaggio introduce nei suoi dipinti spesso si parla di luci artificiali in caravaggio non è assolutamente vero questo perché e qui mi ricordo tuo padre il caso don masi ferroni quando un giorno decidemmo al suo studio di ricostruire le luci di caravaggio e lì con fari e controfari si costruì tutto e poi decidemmo che non era possibile dice certo rivettiamo tutte queste luci così e poi lui ne ficca una dall'altra parte che sballa tutto quell'altra e quindi non è possibile adoperare le luci artificiali caravaggio ha usato una luce intellettuale cioè la luce è il bene che è l'incipit del Vangelo di San Giovanni e l'ombra è il male ma poi soprattutto la grande cosa importante che abbiamo stabilito di nuovo quando per fare la fiction tv si è dovuto procedere a cercare di riproporre la luce di caravaggio insieme a Storaro è stato proprio questo come fare ricostruire la luce degli ambienti di caravaggio senza che l'una distrugga l'altra è stato effettuato con un sistema elettronico ovviamente prima si è stata data un'illuminazione e poi se ne è data un'altra quindi queste sono le estreme difficoltà della pittura di caravaggio che in questo senso dava e dipingeva le ombre quindi qui abbiamo poi una serie di citazioni classiche per esempio abbiamo il dar da bere agli assetati che fa vedere Sansone che beve dalla mascella dalla mandibola d'asino come in un porron sivilliano abbiamo l'oste che sta ricoverando Santiago abbiamo San Martino che taglia il proprio mantello per darla la figura in primo piano ma anche qui c'è un'arguzia caravaggio anche qui cita dal classico ma è talmente paraculo che te la fa vedere al rovescio questo è il Galata Morente ma non è visto davanti è visto di dietro e quindi mi vanto di essere di avere avuto questa intuizione dopo averlo guardato mille volte ho detto te possi nacciaccati e poi c'è questa citazione di un erotismo tutt'altro che latente perché abbiamo il pero che all'atta il vecchio cimone il padre condannato a morire di fame secondo appunto un un aneddoto classico di Valerio Massimo quindi lui ha messo in piedi questa che è cinema oramai c'è poco da dire poco da fare ha tagliato un pezzo di un vicolo di Napoli ci ha fatto un angolo con una prigione e ha fatto questa rappresentazione e si capisce che non sta più a Roma pure se qui le infarcisce di citazioni classiche qui è più plebe che nobiltà quindi ha cambiato completamente regista ovviamente un grande artista è una spugna ha capito esattamente quello che doveva fare poi sta in una delle strade più popolari di Roma siamo di Napoli siamo a Forcella che tutti conoscono per quello che poteva rappresentare andiamo avanti ma in precedenza aveva ricevuto una commissione da un privato un certo Radulovic che gli aveva chiesto una madonna col bambino San Francesco eccetera eccetera una solita madonna con bambini e santi ora se c'è un tema che Caravaggio gli hanno commissionato almeno tre o quattro non l'ha mai fatto ha sempre girato intorno e ha fatto un'altra cosa è proprio questo certo che questa è la prima commissione che lui riceve a Napoli ma quando il Monte della Misericordia dove erano membri i personaggi più influenti e importanti dell'aristocrazia napoletana gli chiedono questo quadro questo ovviamente passa in secondo piano ciò non toglie che quando ci rimette rimette mano crea un altro capolavoro ma ragionate un momento andiamo un attimo indietro guardate questo quadro che è dipinto prima e guardate quest'altro che è dipinto dopo in realtà sembra che tra questo quadro e quello precedente passino almeno dieci anni e questa è la grande abilità di Caravaggio se lui rimette mano allo stesso soggetto per per replicarlo fa un altro quadro cambia le luci cambia i soggetti pensiamo per esempio quando vedremo più avanti alla natività di Messina e immediatamente alla resurrezione di Lazzaro sembra che ci siano veramente dieci anni di differenza ecco e qui lui fa un omaggio a quella che è la fede più spasmodica e più potrei dire fa un omaggio all'inquisizione perché i santi qui presenti San Tommaso Equino c'è anche San Pietro Martire sono i santi protettori dell'inquisizione non a caso il Radulovic aveva un fratello che era giureconsulto che è morto poco prima e quindi è quel personaggio in bassa sinistra quello è un magistrato tutti gli altri è la plebe orante di fronte a questa Madonna col bambino che è una classica Madonna col bambino di una bellezza quasi astratta per quanto carnale una modella che Caravaggio ama molto perché la riproduce ancora in questa versione in sedicesimo della 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 Vergine in cui probabilmente lui assolve aveva un incarico che ha avuto dal dal ducadeste e per cui aveva preso degli anticipi circa di 30-35 scudi e poi non aveva fatto il quadro perché quello voleva vedere le figure piccole lui in un carteggio dice ma no andate a far nippo alle garracce quello le figure piccole va bene bravo rompe le scatole a me io le faccio grandi al vero alla fine non si erano messi d'accordo poi tanto è vero che quando l'oratore estensa appunto l'ambasciatore dice ma temo che si siano persi il pittore e pure i guattrini perché dice è scappato ammazzato non c'è più invece conoscendo la probità professionale di Caravaggio penso che lui abbia fatto per questa cappella della Madonna nel nuovo palazzo di Modena abbia fatto una storia della Madonna che rispondeva effettivamente a quelli che erano i temi richiesti della presentazione al Tempio e la nascita di Maria lui ha fatto il momento massimo di Maria cioè lei madre del Salvatore quindi emblema della fede ed è un quadro anche qui dove vedete lei ha uno sguardo tormentato già sente che quella pietra che è scheggiata e già il presentimento del Golgotha sa che questo figlio non è destinato al sacrificio e poi c'è questa figura di San Giovannino che va quasi a toccare con una portata la manina da San Giuseppe come dire toccalo pure perché andiamo avanti ecco poi un'altra commissione e questo io lo trovai e pubblicai nel 73 è La negazione di Pietro dipinta per i savelli difatti nella tela di Rifodero c'è scritto esattamente savella e c'è un numero di inventario e raffigura la legazione di Pietro la la scena è quella che il Vangelo descrive con estrema chiarezza la serva di Caifas dice no c'era pure lui con Gesù e la guardia gli chiede ma sei sicuro sei tu che stai con e lui dice io ma per carità io non c'ento niente chi è quello matto ecco e qui c'è la grande grandissima invenzione di nuovo di Caravaggio perché la forza di Caravaggio punto primo è un dilettante di genio cioè lui va comincia a dipingere a 14 anni a 14 anni perché? perché prima ha fatto tutte le cose e nobile signore poi alla fine le disgrazie della famiglia le feste eccetera eccetera decide di imparare un mestiere allora va dal peterzano ma non è un bambino quindi la sua forza è proprio lì non avere il velo dell'accademia è andare con l'intuito della cultura la sua grande forza è l'invenzione cioè lui pensa e realizza cose che tutti hanno visto ma che nessuno ha mai rappresentato in questo modo e i primi biografi ad esempio Giulio Mancini lo dice usa le immagini così come non sono mai state realizzate da nessuno e qui abbiamo esattamente tre momenti fondamentali della pittura perché abbiamo una figura in controluce sulla sinistra poi con questa barbuta fornita alla veneziana che gli dà un tocco così classicistico abbiamo l'ombra del soldato che si staglia sulla figura della 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 servente notate che la luce non è quella del fuoco è una luce astratta che viene da fuori San Pietro che rafforza la propria negazione con due mani cioè io ma per carità con due mani domanda Caravaggio ha inserito un elemento che ci fa capire l'attimalità quanto che tempo in quanto tempo avviene questa azione che la forza di Caravaggio è anche questa l'attimalità quanto dura questa azione che c'è sullo sfondo un fuoco con le scintille quanto durano le scintille un centesimo di secondo questa azione avviene in un centesimo di secondo tra poco non sarà più così e ancora la stessa idea cambiando le carte in tavola con la modella che abbiamo visto presente nella Madonna del Rosario in cui inserisce questa 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 Salome qui non 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 trionfa nessuno perché lei ha ottenuto la testa del Battista anzi lei ne è praticamente nauseata e la vecchia nutrice è completamente sgomenta è un quadro anche questo se notate la tecnica con cui è realizzato è sempre più veloce velocissima guardate i tocchi di biacca su quella su quella camicia del manigoldo guardate anche come come scende dalle spalle di Salome è quella quella diciamo quel mantello bianco ma non è un mantello è una cosa anche qui che dura pochissimo perché quella testa pesa e si vede già che lo sguero fa anche fatica a tenerla in piedi andiamo avanti nel stesso periodo poco prima che lui attraverso appunto personaggi che aveva conosciuto nella confraternita del Piero Monte della Mesiricordia ottenga accetti di trasferirsi a Malta ottiene dai De Franchis o Di Franco come li chiama il Bellori ma la famiglia esiste ancora è De De Franchis è una famiglia di origine genovese dipinge la flagellazione non avevano ancora avuto una 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 cappella gentilizia i De Franchis erano mercanti molto ricchi proprietari di banchi eccetera eccetera comunque commissionano a Caravaggio la la flagellazione da notare due cose immediatamente che probabilmente hanno ottenuto la commissione in corso d'opera e dopo lo vedremo perché vedete che in alto c'è una cucitura quella indica e normalmente è sull'altezza che non sapeva l'altezza del vano dove doveva essere inserito quindi lui ha lasciato quel pezzo di tela aggiunto praticamente fino all'ultimo momento e poi questa sublime invenzione ancora una volta con citazioni perché la figura del basso a sinistra della guzzino che sta stringendo le mani per la mano sulle verghe con le corde è una letterale citazione dalla rotina ellenistico che oggi è a Firenze altrettanto importante è notare come lo stesso sgherro che abbiamo visto prima andiamo a dire un attimo questo qui a destra che fa questo gesto andiamo avanti è lo stesso che appare qui nella flagellazione di Cristo ed è talmente violenta questa scena che veramente ci riporta in quello che è stato il clima interpretativo di quello che è stata la passione di Cristo e che in fondo Mel Gibson ha interpretato come meglio non si poteva guardate oltre che tirargli i capelli in una maniera violenta dopo avergli calcato sulla testa la corona di spine gli sta dando un calcione sulle gambe per farlo cadere quindi un'immagine di una crudeltà della passione di nostro signore inaudita inedita è vero che c'è il filtro di Sebastiano del Piombo ma Sebastiano del Piombo e Apollinio riporta questa idea di un Cristo veramente letterario scolpito umanistico in Caravaggio è vero che questo è un atleta ricordiamoci che il nostro signore aveva fatto anche il falegname quindi tanto tanto debole non doveva essere poi si è fatto pure 40 giorni di di ciuno tanto tanto da tanta forza fisica certamente l'aveva è vero che questo è un corpo Apollinio ma è vero pure che sta crollando sotto la violenza becera di questi di questi bestioni nella prima struttura sì grazie è stata fatta una radiografia e Caravaggio aveva giocato sul nome del committente dei francis di franco di francesco ed aveva inserito questa che voi vedete è un san francesco col saio da cappuccino in orazione davanti al crucifisso che ricorda molto quella scena che poi sarà di velasquez con l'angelo custode che contempla il Cristo flagellato ma evidentemente poi considerando che la cappella ottenuta è dei padri domenicani Caravaggio copre il San Francesco torniamo indietro un attimo e sostituisce il San Francesco con questo sguerro sulla sinistra andiamo avanti poi conclude questo ciclo napoletano per divincendo il martirio di Sant'Andrea per il vicere di Napoli un figuro tutt'altro che raccomandabile ma comunque è un committente quindi Caravaggio dipinge questa questa crocifissione di Sant'Andrea la dipinge con le concezioni sue cioè non gli fa la croce degussata ma gli fa la croce ortogonale come fanno come usare nella cultura lombardo-veneta poi soprattutto però volendo se si esamina la struttura grafica dell'immagine si noterà che la struttura la costruzione dell'X torna nella torsione del Sant'Andrea e in quella dello sguerro che lo sta che lo sta per sciogliere perché praticamente Geas che era il governatore di Patrasso aveva aderito alla fine alle preghiere del che dicevano non puoi condannarlo liberalo invece il Sant'Andrea sta effettivamente morendo il dipinto è uscito fuori qualche anno fa da un da un da un convento spagnolo probabilmente rifugiato nel 36 a seguito della guerra civile di Spagna e oggi al museo di Cleveland notare che Caravaggio non si smentisce perché in basso a sinistra per esempio notate che quella vecchia ha un gozzo enorme quindi e soprattutto la grande invenzione quella che dicevamo prima del cinema che della figura all'estrema destra e certamente il dipinto non è decurtato si vede solo l'orecchia quindi è un'immagine che transita entra e sta e sta in questa posizione cioè l'immagine non è ferma non è mai ferma è un attimo arrivato a Malta lui è appoggiato dal vicere di Napoli da pardon dal dal gran maestro dell'ordine all'ofte Vignacour al quale però confessa di essere un omicida perché abbiamo poi trovato il carteggio tra Vignacour e il Papa dove Vignacour chiede se si possi dare per una volta e una soltanto il Cavalierato a un personaggio che in duello ha commesso omicidio il nome non compare ma compare nella risposta cioè al Caravaggio si può dare il titolo di Cavaliere di Malta e soprattutto c'è appunto il sigillo dove dice Santissimus Plaquit cioè Paolo V concede che venga fatto Cavaliere rimessa mano a questo ritratto magistrale in un'armatura che ancora esiste al Museo della Valletta molto interessante perché si riteneva che questa armatura che di fatti non è dell'epoca del ritratto ma è del 500 e aveva provocato grandi squilibri tra i miei predecessori dice ah come fa perché dipinge non è Caravaggio per l'amor di Dio non è Caravaggio no è Caravaggio ma l'armatura che indossa il Gran Maestro è quella che tradizionalmente veniva reputata essere quella di Jean Parizeau della Vallette che è il fondatore della Valletta e uno dei grandi personaggi della storia di Malta e quindi i cavalieri i Gran Maestri venivano investiti con questa armatura tradizionale infatti poi io ho trovato altre due o tre immagini di Gran Maestri con questa armatura molto interessante anche qui come vedete è una scena dinamica non è ferma sta camminando e il putto che porta il coprico razza e l'elmo è il figlio di Ottavio Costa che è un banchiere romano committente di Caravaggio tra cui della Giuditta di origine genovese è molto legata all'ordine di Malta e suo figlio è appunto Antonio Ottavio Costa è il paggio del Gran Maestro quindi il Gran Maestro non ci dimentichiamo questo fatto ha fortemente voluto Caravaggio cavaliere dell'ordine per non smentirsi cogliendo ovviamente le richieste perché se no che c'è da fare dipinge la decollazione del Battista anche qui siamo di fronte a un tema usato abusato eccetera eccetera ma è quello canonico dei Cavalieri di Malta e lo dipinge per quella che è la cappella Sistina dei Cavalieri l'oratorio di San Giovanni dove occupa praticamente tutta tutta la parete dell'altare maggiore è un dipinto sconvolgente dobbiamo pensarlo se qualcuno di voi è stato a Malta oggi ci sono delle tele di Mattia Preti bellissime degli stucchi splendidi eccetera eccetera c'è stato inserito anche il San Gerolamo ma non è quella che doveva essere l'atmosfera quando Caravaggio ha dipinto questa questa telona che se non mi ricordo male è 6 metri e 30 per 5 metri e 20 cioè un vero pezzo di città messo su una parete e quindi l'azione siamo di nuovo a un momento fatale Battista sta fiottando sangue e in quel sangue c'è la firma del Caravaggio il quale si firma F talvolta interpretato come Fecit in realtà no è per Fra Michelangelo quindi lui è stato investito esattamente due o tre giorni prima e questa è la scoperta del dipinto in occasione della celebrazione Battista che mi pare sia il 14 agosto o qualcosa del genere certo la scena è di una crudeltà atroce perché notate che cosa sta facendo quello sgherro sta tirando fuori un coltello un coltellaccio e non una nobile misericordia un coltellaccio da caccia con cui taglierà l'osso della 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 testa del Battista della colonna vertebrale quindi una situazione assolutamente atroce sta per porre il capo all'interno del bacile che gli porge Salomè ma soprattutto rivela dei temi abbastanza interessanti per esempio perché firma nel sangue e firma con il nome perché il Battista battezzava nell'acqua e come dice il Vangelo verrà uno che battezzerà nel sangue e nel fuoco e quindi già abbiamo una prima giustificazione del battesimo nel sangue e poi soprattutto perché è un motto dei Cavalieri di Malta esanguinem virtutem trao cioè trarò forza dal sangue del martire e quindi è un omaggio implicitamente a se stesso perché ovviamente è lui che firma e all'ordine di Malta appunto che lo ha accolto ci sono delle curiosità per esempio il personaggio al centro ha usato come modello il fratello del Vignacur ma soprattutto andiamo avanti ecco anche qui siamo di fronte a un quadro estremamente drammatico però dimostra l'amistà l'amicizia che lega Caravaggio al gran maestro perché è andato lì e ha detto spogliati che ti ritraggo come San Gerolamo San Gerolamo difensore con la vulgata della religione cattolica e loro difensori della fede contro gli islamici eccetera eccetera quindi San Gerolamo e Vignacur possono bene essere la stessa persona è un'invenzione anche qui di tutto rispetto perché vedete sulla destra c'è un'anta di porta che si è aperta e noi da questa apertura vediamo San Gerolamo che scrive nella sua grotta in basso a destra c'è lo stemma dei Malaspina altra famiglia nobile genovese gran balì dell'ordine a Napoli a Malta andiamo avanti i documenti parlano di un San Gerolamo e di una Maddalena la Maddalena fino a destra è perduta non la si è mai trovata però le fonti sono abbastanza serie si dicono che c'era una Maddalena che nella morte del Malaspina avvengono sia il San Gerolamo che la Maddalena destinati alla cappella d'Italia nella cattedrale di San Giovanni dei Cavalieri ora il San Gerolamo è quello che abbiamo visto ci sono molte copie che circolano molte iconografie di questa Maddalena quindi tutto porterebbe a pensare che queste siano copie dell'originale di Caravaggio e che comunque contengono delle arditezze abbastanza importanti come la croce di legno proiettata tutta in avanti come la figura che si avventa tutta su un primo piano che sono abbastanza frequenti in Caravaggio e poi vedremo anche la somatica della Maddalena che ritorna in altre cose possiamo andare un attimo indietro ecco vedete la figura compositivamente riscontra con il San Gerolamo andiamo avanti questo è un ritratto che alcuni chiamano di 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 Antonio Martelli ma in realtà è il Vignacour che si fa ritrarre in semplice abito emiles conventualis cioè quindi con le sue uniche armi che sono il rosario e la spada cioè lui è il difensore nella fede e con questa enorme croce di malta sul petto non può che ribadire la propria le otto punte della professione di fede e dell'ordine ospitaliero è un quadro non finito perché la mano e altre parti per esempio nella preparazione e nel fondo si intravedono anche da questa fotografia ci sono dei granelli di 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 sabbia che Caravaggio unisce alla Veneta per formare per dare più corpo al colore e poi c'è un'altra cosa interessante che esclude possa essere una copia vedete c'è una cucitura in nella zona sinistra il quadro è praticamente un testimonianza ulteriore della stima e dell'affetto di Caravaggio nei confronti del gran maestro se non che è successo qualcosa di gravissimo gravissimo che poco prima Caravaggio ha ricevuto l'investitura ecco queste sono cose anche qui che erano completamente scomparse non se ne sapeva nulla dei documenti in quanto evidentemente imbarazzanti fortunatamente gli antichi non avendo le fotocopiatrice non avendo bobbine copiavano tutto quindi è emersa in un archivio di Malta una trascrizione di alcuni degli atti del motivo per cui Caravaggio viene arrestato facendo un passo un attimo indietro per esempio la Maddalena di qui sopra mi è stato detto che potrebbe esistere in originale presso il convento delle pentite il nome è già un programma dove venivano raccolte tutte le amanti e le curiales dei gran maestri nel segno della Maddalena sempre per mettere un po' di pace agli scandali ecco e quindi Caravaggio si trova coinvolto e la parola usata dal cancelliere è precisa tumultu tumultu non è uno scherzo d'osteria tumultu c'è qualcosa di politico dentro infatti Caravaggio si trova in una rissa con la parte avversa al gran maestro quindi lo scandalo è doppio uno perché ci scappa come al solito il ferito uno due perché viene usato un'arma impropria che era un archibuggio a ruota che ha assolutamente proibito e due perché lui sta dalla parte al contrario di quelli che l'hanno appoggiato fino allora evidentemente non ci ha capito granché si sono trovati a fare questa disputa fino con la rottura della porta di uno di questi signori e c'è un personaggio losco e antipaticissimo che è questo da ponte che è uno dei membri dell'ordine legato al duomo della valletta il Caravaggio viene arrestato il da ponte viene espulso dall'ordine e nell'arresto viene io ho visto la prigione la guva cioè la grotta come si dice in dialetto maltese dove è stato chiuso Caravaggio perché era quella riservata ai cavalieri scendi da oltre sei metri e mezzo sette metri ti tirano giù non ci sono finestre c'è una sola apertura al piano di sopra chiudono buttano la chiave e se ne parla più quindi se non ti tirano fuori non esci allora a questo punto abbiamo due possibilità uno il Gran Maestro vuole evitare il processo cioè ci sarebbe uno scandalo il gruppo antipartite perché dovete pensare io ho letto le cronache lì dei Cavaliere di Malta era un putiferio uno contro l'altro incazzati come bisce partiti e contropartiti risse prostitute c'era di tutto quindi un uomo che era stato portato al massimo grado di Gran Maestro doveva avere un gran polso però aveva pure un gruppo antipartito potentissimo non ci dimentichiamo che sono le famiglie più importanti d'Europa quindi affrontare un processo con una persona che tu hai appoggiato fino in fondo è destabilizzante quindi abbiamo due discorsi da fare Vignacur probabilmente lo fa mettere in prigione la prigione è quella canonica esiste ancora nel Forte San Michele Forte Sant'Angelo però il comandante di Forte Sant'Angelo è un imparentato con i Carafa che sono parenti dei Colonna reintegrato in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi onori il comandante della Galeria di Malta chi è? Fabrizio Sforza Colonna che sono tre i personaggi che possono fatto sta che ex funibus excursus non so come Caravaggio evade dalla fortezza certamente non è scappato con una nave dell'ordine però siamo riusciti a capire che c'erano delle navi precisamente delle spadare siciliane che in sette ore facevano la valletta Siracusa quindi con tutta probabilità Caravaggio ex funibus excursus è andato su una di queste spadare e infatti sbarca a Siracusa su questa su questa su questa avventura l'arresto con la fuga eccetera eccetera come al solito si è ricamato all'infinito voi sapete il giornalismo tra 8 e 900 se sapeva il fatto doveva anche ricostruire i particolari se i particolari non li sapeva li inventava l'importante che il fatto rimanesse così infatti Baglione che copia Bellori che copia Baglione e così via dicono che lui ebbe uno scazzo con un cavaliere di Malta per cui questo lo fece imprigionare siamo arrivati addirittura a trovare il nome di questo cavaliere franzoso che era che si chiamava oddio mio vabbè un cavaliere di Francia se non che questo è assolutamente impossibile per due motivi perché il nome che è stato trovato mi consulta e ve lo dico che è stato Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 il becchino che regge... il becchino che reggele Finanzaro che niente altro che la citazione del Achille che sorregge il corpo di Patroclo che anche a noi alla Roma ce l'abbiamo ed è Pasquino. Quindi lui ha citato questa statua classica in questo contesto che lui ha rivoluto classico ma rivoluzionario, perché è tutta una reinvenzione sopra le righe. Andiamo avanti. Credo potesse comprasi tutta Messina. Quindi Caravaggio percepisce questo saldo altissimo per questo quadro destinato alla chiesa dei Cappuccini e anche qui non si smentisce. Io per anni e anni ho guardato questo quadro pensando che ci fossero delle ritivinture perché c'erano dei particolari che non mi tornavano. Per esempio la figura con le braccia aperte immediatamente sopra Maria ha i bottoni, solo che i bottoni da noi a quell'epoca non c'erano, si usavano le fettucce. Quando adesso il quadro è stato pulito ho capito che non erano le ritivinture. Quell'uomo è un arabo. È un arabo, di fatti anche i calzoni sono quelli degli arabi. E quindi è quello che è stato, ricollegandoci alla commissione da parte dei francescani, San Francesco andò a predicare la conversione nei califati e negli Emirati. Quindi lui ha rimesso in scena un arabo convertito. Non solo, ma bisogna ricordare che i documenti messinesi erano fino al 600 avanzati stilati in latino, greco e arabo. Quindi significa che c'erano gli arabi a Messina e indubbiamente c'erano. Se vi ricordate il film di Ridley Scott e Le Crociate, dove oltretutto gli islamici venivano fatta pagare una tassa perché potessero pregare. Pensate quanti ce n'erano. Questa quindi è una composizione straordinaria, basata su questa fuga di oggetti che inizia con la pialla di San Giuseppe, con una zucca dove avrebbe messo l'acqua e soprattutto con questa prospettiva drammaticissima in cui la Madonna è stesa a terra. Ricordandoci che uno dei motti dei francescani derivati da San Benedetto e poi ripreso da San Carlo è Humilitas. Questa è la Madonna dell'umiltà, terra, humus. Quindi lei è sdraiata a terra. E quindi siamo già di fronte nella mestizia più totale al precorrimento del Golgotha. E un'altra cosa che è venuta fuori da questo importantissimo e bravissimo restauro fatto dalla Storte e dalla Merlini è che in alto a destra Caravaggio si mette tra i devoti. È lui quel personaggio di profilo in alto che prega il Signore. Non di meno Caravaggio riceve altre commissioni. Per esempio questo drammaticissimo San Gerolamo che è una visione di San Gerolamo, ma come sempre Caravaggio della visione ti dà l'effetto e non ti dà la causa. È talmente drammatica, tragica la visione che, sapete, San Gerolamo apparve, ero gli angeli che lo scudisciano dicendo tu non sei più cristiano, tu sei ciceroniano, tutte queste cose qui. E quindi San Gerolamo ha questa visione che stava contemplando e meditando sulla morte. Notate l'invenzione del cranio che gli è sfuggito di mano, mentre la mano ancora tiene. E cadendo si è rotto alla mandibola. E tutta la scena avviene mentre il cranio e i due frammenti stanno saltellando sul piano. Ancora qui siamo di fronte alla stessa invenzione delle scintille nella negazione di Pietro. Quanto dura questa frazione di secondo? Più di una frazione di secondo. Questo per far capire il grado di drammaticità, oltretutto considerando quello che aveva vissuto e che viveva quotidianamente il suo grande trauma, era che era un assassino. Lui questa cosa non la poteva, non se la sentiva come un gravame di cui non poteva liberarsi. Lui firma nel sangue perché ha sparso il sangue del fratello. Lui è caino e quindi di fronte a questa psicologia frastornata, drammatica, rivolta continuamente a se stesso e al peccato di cui è l'atore, anche quando dipinge un soggetto splendido come può essere quello dell'annuncio a Maria, si riempie del punto dell'imminente dramma della crocifissione. L'angelo annuncia a Maria, ma l'annuncia praticamente di spalle, riprendendo quella frase del Vangelo che dice verrà l'ombra del Signore e ti coprirà. E il Caravaggio letteralmente fa coprire Maria dall'ombra dell'angelo. Maria è la serva del Signore, quindi questa drammaticità totale la scena dipinta. Anche in questo caso notate che c'è una striscia in alto, vedete? Questa striscia è stata completata in un secondo momento, perché anche qui Caravaggio non aveva la condizione di come nel Duomo di Nancy sarebbe stata all'altezza, non era stata finita. Quindi aveva lasciato quella parte non finita. Quella di Napoli nella flagellazione l'ha finita lui, questa è stata finita da un'altra mano. Ma quello che si vede sono gli schizzi che lui ha lasciato per completarla. Ecco, e poi siamo al quadro più drammatico. Di nuovo una natività fatta per la confraternia dei Santi Lorenzo e Francesco con un angelo che c'è Agnus Dei. Agnus Dei però, più che Agnus, è proprio un oggetto buttato a terra. La Vergine ha la spalla scoperta, probabilmente ha da poco allattato il neonato e tutto avviene in una tristezza infinita. Ora questo quadro è uno dei busillis, uno dei miei pallini, mio e del colonnello Musella, perché è stato rubato nel 1969 a Palermo. Ed è una crociata che io e lui stiamo intraprendendo, perché non è stato distrutto. Possono parlare tutti i pentiti, tutti gli spaduzza, tutti quelli che sono andati a dire che il quadro era distrutto, non è stato distrutto. Perché io l'ho visto nel 1976, quindi il quadro rubato nel 1969 non è stato distrutto. Ciò premesso, e mia moglie si ricorda la requisitoria violenta che ho fatto a Trapani, poi qualcuno è venuto a dirmi di abbassare i toni, ricorderò soltanto che il colonnello Musella ha detto un certo giorno, c'è caro Maurizio, quel quadro un giorno o l'altro lo ritroveranno e ci saranno due morti sotto. Dico, cazzo, e c'è chi sa, te e io. Ecco, quindi questo è l'orgoglio della Sicilia finito in mano alle putrite mani della mafia, che non sa che cazzo farsene, però è l'emblema di quanto loro siano importanti. Invece sono solo come quei cretini che si rubano la stella della Mercedes, ma non c'hai la Mercedes, sei solo un cretino che ha rovinato una bella macchina. Ecco, questo San Francesco, ritornando al discorso delle tecniche, lo ritrovai io nella sagrestia di San Pietro a Carpineto Romano nel 1965, è dipinto a nero di bitume e quindi riporta immediatamente al periodo siciliano. Con tutta verosimiglianza, questa è stata fatta una radiografia, era stato abbozzato più piccolo, probabilmente doveva essere uno standardo processionale. Gli standardi processionali siciliani sono fissi, erano dei quadri veri e propri. Poi evidentemente è trasformato in quadro. Sappiamo di un'interferenza del Pietro Aldo Brandini e sappiamo appunto che il quadro poi finisce a Carpineto Romano dove dapprima doveva essere appannaggio dei cappuccini e poi diventa invece dei francescani, dei frati minori. Quindi il cappuccio che vedete è stato allungato non è un pentimento, è un allungamento fatto ad altra mano. È un dipinto che però contiene tutto il trauma della fede cappuccina, tutta l'identificazione della morte e soprattutto notate come questa croce appena piallata si è ancora una volta appoggiata su un sasso e ancora il Golgota che aleggia. E ancora una volta Caravaggio ci pone di fronte al fatto senza la causa. Questo è un San Gennaro che pure questo ho avuto io l'avventura di ritrovare in una chiesa di palestrina dove tutti gli arredi venivano dal Carmine Maggiore di Napoli. Insomma, normalmente le mie attribuzioni ci mettono 30 anni per essere accettati. Questa è un'altra di quelle come il San Francesco di Carpineto che è stato accettato dopo 30 anni. Come ebbe in modo di potevo essere anche morto ma evidentemente non è così. La grande invenzione di questo San Gennaro è che il carnefice ha vibrato il colpo, la testa si sta staccando e il sangue schizza. È un'azione drammatica dove forse a questo punto noi siamo i carnefici che abbiamo vibrato il colpo e torniamo all'identificazione di Caravaggio nel martire. È un modello che ci riporta al periodo napoletano perché di fatti è lo stesso andiamo avanti che troviamo nelle vesti di David e questo è il famoso quadro della Borghese che Caravaggio dipinge evidentemente pensando a Paolo V che è la raffigurazione del terreno di Cristo David è prefigurazione di Cristo qui il bene che sarebbe David ha abbattuto il male il quale male è un autoritratto del Caravaggio stesso quindi si confessa come omicida e chiede pietà. Lui ha ambientato David sta entrando nella tenda portando il trofeo di Golia ma in realtà porta se stesso e per precisare ancor più nella spada, nello sguscio c'è un motto umilitas occidit superbiam che è il motto in cui Sant'Agostino equipara David a Gesù Cristo affermando che l'umiltà vince il male andiamo avanti ecco, questo è l'altro quadro in cui continua ad apparire lo stesso modello il San Giovanni Battista della Borghese per cui ci fu una grande disputa Caravaggio muore il 18 luglio del 1610 a Porto Ercole per caso non doveva andare a Porto Ercole doveva scendere a Paolo evidentemente ha chiesto di essere sbarcato a Paolo ma come in tutti i porti c'è l'elenco dei latitanti Caravaggio è latitante ancora perché nonostante abbia avuto accordi abboccamenti con la Curia di Roma e le garanzie da parte di Cibione Borghese della remissione del bando la burocrazia non è che arriva un fax e dice no, quello non gli rompete le scatole perché è prosciolto no, intanto non era prosciolto manco per niente bensì viene arrestato perché lui non voleva andare a Paolo voleva andare a Porto Ercole voleva andare a Paolo perché a Paolo? perché gli Orsini sono parenti dei Marchesi di Caravaggio quindi lui pensava di trattenersi lì giusto il tempo perché a Roma ratificassero la pace con i Tomassoni e quindi tutto potesse tornare nella normalità Caravaggio aveva questo solo quadro quando è andato è arrivato la nave la feluca che faceva questo percorso Napoli Procida perché molti degli abitanti di Porteco e degli stati dei presidi di Spagna siccome gli spagnoli si fidavano molto erano tutti del regno di Napoli del viceregno di Napoli soprattutto dell'isola di Procida quindi il percorso era questo Napoli Procida Porto Ercole se non che lui chiede di essere sbarcato viene sbarcato non fa in tempo a far tirare le sue robe perché la nave lui viene trattenuto e la nave per le maree deve ripartire quindi riparte chiarito l'equivoco lui paga una cauzione perché se no non è stata un'estorsione da parte del capoposto dove dice con grande sporso di denari lui ha dato al capoposto una cauzione e riparte per Porto Ercole che sa essere la meta ultima la cavolina della feluca e qui le carte cominciano a essere meno certe perché si dice parte a piedi poi un'altra dice no è andato in barca vabbè è andato per mare per il semplice fatto che da Palo a Port Ercole ci sono dodici dogane in entrata e in uscita se ogni dogana doveva essere messo dentro e dare un grande sborso di denaro non si poteva fare quindi ha preso favorito ovviamente dagli orsini o da chi per lui una barca e è arrivato a Port Ercole è arrivato a Port Ercole e la nave con le sue robe era ancora lì attraccata perché sarebbe ripartita il lunedì ma solo che lui arriva malato arriva malato perché con tutta verosimiglianza siamo in estate ha ingerito cibi o acque infetti e quindi lui ha una forma tifoidea di salmonellosi allora senza senza antibiotici ovviamente non ti salvi le ricostruzioni anche in questo caso sono state molto fantasiose lo stesso esce da un lapsus calami del Baglione ripreso dal Bellori poi la data un gran casino perché il Baglione dice arrivò a Port Ercole e sulla spiaggia si mise in letto e poi come si mise in letto c'è un letto nella spiaggia quindi evidentemente poi è uscito un documento che dice che è morto in un piccolo ospedale le recenti ricerche che stiamo compiendo abbiamo capito che arrivando malato la compagnia della Santa Croce un nome militare che doveva occuparsi di chi arrivava malato nell'isola nel nel territorio lo mettono in una quarantena Santa Maria che sta oggi è quella della capitaneria di Porto Ampliate eccetera eccetera che sta a Port Ercole quindi lui muore probabilmente lì perché tu un malato di una malattia contagiosa non puoi portarla all'interno quella è una città militare dico succede un'unità di Dio di fatti torniamo sempre lì arrivare a Port Ercole a quell'epoca immaginate di sbarcare oggi a Guantanamo e poi mi dite quello che succede stessa cosa quindi lui ha scopo primario il recupero del San Giovanni Battista avendo capito che pur essendo cittadino del del re di Spagna perché Caravaggio è feudo spagnolo per maggior rispetto si qualifica Cavaliere di Malta anche se sa bene di non esserlo più quindi di fronte a queste e questa situazione abbiamo la confraternina della Santa Croce che doveva fare l'inventario dei beni che lui aveva con sé provvedere alle cure provvedere alla alle funzioni religiose contattare i parenti e tumulare temporaneamente il corpo questa era la procedura che andava svolta difatti la copia che abbiamo trovato di questo atto di morte se vogliamo chiamarlo così rega scritto che il 18 luglio del 1609 morì per malattia in Port Ercole Michelangelo Merisi da Caravaggio dipintore e c'è una bella striscia lunga sotto che a noi poteva non dire nulla ma il consigliore Corradini ha spiegato che cos'è è semplicemente l'indicazione del cancelliere che non è stato pagato nulla quindi se per cortosia volessero onorare e quindi questa cedola è stata inviata a Caravaggio a Roma e a Napoli quindi doveva essere con l'inventario perché il nuncio apostolico di Napoli l'ambasciatore del discipione dice no l'ordine di Malta non ha a che vedere con lo spoglio di questo di questo cavaliere che è stato cavaliere non osservante perché la morte del cavaliere i beni del cavaliere tornavano all'ordine lo stesso precisa che per quanto riguarda i quadri sono San Giovanni è tornato a Napoli e nella residenza della Marchesa di Caravaggio Palazzo Cella Mare imparentata appunto di Carafa Colonna non ci sono che tre quadri suoi li do i San Giovanni e la Maddalena il vicere di Napoli subentrato dice a me del coppo frega un cazzo però mi mandate per cortesia con toda se le ridate de Faluca de Galeon eccetera eccetera e il dipinto di San Juan Bautista perciò io voglio San Giovanni Battista perché effettivamente San Giovanni Battista che era questo stava a Porta Ercole invece no era già tornato a Napoli come abbiamo saputo e stava dalla Marchesa allora qui si affaccia una risposta perché il vicere di Napoli arma una canizza che non finisce più per avere questo quadro ma lui non lo può avere il quadro come non può avere nessuno degli altri due quadri uno perché la Maddalena è quella che abbiamo visto è stata dipinta per i Colonna ed è roba loro questo è stato dipinto da Caravaggio per commemorare Giovanni Battista Borghese fondatore delle fortune della famiglia morto nel 1609 ed è proprietà di Scipione il terzo quadro è l'altro San Giovanni Battista quindi passando da questo dipinto che finalmente Scipione riesce con con varie peripezie ad assicurarsi e farselo portare a Roma perché poi abbiamo anche degli episodi un po' tragicomici perché gli si era un po' sciupato da andare a venire quindi l'aveva fatto restaurare poi gli aveva fatto mettere una cornice che è quella che c'è ancora e l'ambasciatore scrive se a vostra signoria non piacerà ce ne metterà una come gli fa da lei e avevano fatto una cassa che non finiva mai per metterlo sopra la feluca è stato un gran casino poi dovevano passare la flotta la flotta pontificia doveva passare al largo di Gaeta a Terracina sballano l'appuntamento e questo deve ritorno a Napoli c'è un po' di peripezie quindi questo quadro ottiene il vicere l'unica cosa che lo fa copiare la copia poi è stata rubata era nella chiesa napoletana della Scorsiata nello stesso momento Caravaggio a Napoli aveva dipinto quest'altro capolavoro anche qui usando il nero di bitume che è il martirio di Sant'Orsolo per il principe Doria Giovanni Andrea Doria anche in questo caso Caravaggio si ritrae sulla destra tra quelli che assistono al martirio ed è un quadro anche questo che ha dimostrato uno stato di costruzione a causa del nero di bitume e questo è l'altro San Juan Bautista non finito quindi con i criteri dell'epoca non valeva niente ed è il quadro che con tutta vera similianza si assicura il vicere di Napoli tant'è vero che poi questo dipinto finisce in Spagna ne esiste una copia di Maino che è stata esposta anche recentemente finisce poi c'è una serie di 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 lutti perché il vicereppe muore alla madre e poi ci sono due eredi che sono sacerdoti alla fine arriva un altro e diventa vicere del Perù e con tutta probabilità questo quadro con altri finisce in Perù per poi riapparire nel Salvador e quindi in Argentina e in 40 anni e oltre anni in cui mi scrive caro professore in casa abbiamo un quadro di Caravaggio e io chiedo mandatemi la fotografia sicuro che non sarà mai di Caravaggio ecco questo è l'unico che è risultato essere veramente di Caravaggio fu pulito dal grande Pico Cellini e adesso recentemente ne è emersa una copia a testimonianza che essendo l'ultimo quadro di Caravaggio probabilmente anche in questo caso i napoletani hanno voluto conservare la testimonianza di questo dipito è un quadro drammaticissimo Caravaggio parla con se stesso il battista vede fuori campo Gesù che arriva lui è il precursore guardate la mossa quasi raffaellesca delle mani però la destra sta per alzare l'indice per indicare Gesù grazie 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 a tutti